Tra i bagnanti c'è una particolare categoria di frequentatori, quella degli irriducibili. Sono degli staccanovisti della spiaggia, non li ferma il brutto tempo, non li scoraggia il vento, la mancanza di sole, né tantomeno la fine più o meno anticipata della stagione ufficiale. Finché ci sono lettini c'è speranza e il loro motto, e si distinguono perché andando in spiaggia in questo periodo li trovi lì, al loro posto, magari con una maglietta addosso, ma sono lì. Per lo più sono persone che ormai hanno terminato la loro esperienza lavorativa e che hanno tanto tempo a disposizione, ma ci sono anche gli amanti di questa parte di stagione in cui le spiagge sono meno affollate ed i ritmi sono più blandi. I bagnini dal loro canto sono impegnati nelle operazioni di chiusura, si incomincia a togliere le file di ombrelloni e man mano si rinchiudono nei depositi dopo opportuno lavaggio, naturalmente sotto l'attento e vigile sguardo degli irriducibili. Sì, abbiamo iniziato a chiudere questa stagione con molta calma, anche perché abbiamo iniziato comunque tardi a causa mal tempo, quindi nel frattempo i nostri clienti continuano a venire al mare, anche perché la bella stagione continua, quindi continuiamo così insomma questo settembre. Se la gode fino all'ultimo? Io sono qui dal 66, la Sassone per me è la spiaggia migliore di Fano. Fino all'ultimo giorno? Fino all'ultimo giorno. Di sicuro, sono a pensione. Però si sta bene comunque? Si sta bene qui, ancora a Fano si può vivere tranquillamente e si può godere la città. Al mare fino all'ultimo giorno? Certo. Si sta bene comunque? Finché dura? Finché dura. Un po' troppo vento? Però con i dovuti accorgimenti si sta bene. Si si, bisogna camminare, fa bene la salute. Ecco, come l'ha passata la giornata? Camminiamo. Siamo di lavoro, di lavoro al mare. Ormai è un lavoro? È un lavoro. Alla sera siamo sempre stanchi. È vero? Si si. Vi vedo affaticati, sudati. Si si, è giusto, è giusto. Comunque è piacevole al di là di tutto. È molto piacevole, durasse fino a ottobre. È vero? Forse magari in questi momenti in cui la spiaggia è poco affollata va anche meglio. Si sta benissimo. Pochi ma buoni. Oltre che godersi gli ultimi sprazzi di stagione, per i più ci sono anche i temerari del bagno che sfidano le basse temperature per gli ultimi tuffi prima di appendere il costume al chiodo. Com'è l'acqua? Bella. Si nuota bene? Sì, c'è un po' di corrente ma è bella, è fresca, si sta bene. Grazie. È una giornata perfetta per fare il bagno. Adesso è un po' più freschina, comunque si nuota bene? Si nuota bene, sì. Davanti a noi abbiamo un altro fine settimana dove poter godere degli ultimi sprazzi di bella stagione, ma siatene certi, gli staccanovisti della spiaggia saranno lì e ancora lì anche per altro tempo, finché maltempo non li separi.